Siamo arrivati qua in Fondazione, abbiamo analizzato un po' i documenti che ci davano storici. Poi abbiamo visionato tutti insieme questo filmato che è andando verso il popolo. Il filmato che riguardava comunque com'era la vita allora sia all'interno della fabbrica che comunque la vita quotidiana degli operai o chi viveva ad Almine. Abbiamo ragionato sul come si divertivano i bambini, i ragazzi e gli adolescenti negli anni 40 e come lo fanno adesso. Dopodiché seguendo il filmato abbiamo deciso come ricostruirlo tutti in gruppo e successivamente invece dividendoci per ruoli. Abbiamo svolto le riprese con l'aiuto dei cameraman. Erano molte le scene da girare e per fare un buon filmato abbiamo diviso il lavoro in due parti e concludendo alla fine in un'ultima lezione il lavoro unendo tutti i vari pezzi montando il filmato finale. Per rivivere appunto i momenti che si vivevano quando era appena nata l'industria e forniva i primi servizi ai cittadini di Dalmine che infatti era una città industriale. È stato bello, ci siamo divertiti con i Chuck. Ho avuto molti ruoli, ho fatto sia da regista che da cameraman e ho anche partecipato a delle scene come comparsa. Fare un film non significa soltanto dei personaggi che parlano e quindi fanno delle azioni, ma può essere anche un documentario con della musica di sottofondo dei suoni che permettono di farci provare dei sentimenti, delle emozioni. Facendo il regista mi ha insegnato a prendere delle responsabilità. È stato molto interessante e anche divertente. Abbiamo collaborato molto di più che nelle altre attività che facciamo a scuola che solitamente sono attività individuali, mentre in queste attività abbiamo collaborato tutti insieme e ci siamo divertiti facendo un bel lavoro. Grazie. 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 Grazie.